Buongiorno a tutti amici, questa mattina facciamo una riflessione su qualcosa di cui si parla e spesso si abusa, cioè riguardo ai principali fatti di cronaca nera si parla di riconoscimento della infermità mentale o della semi-infermità mentale agli autori di omicidi in generale. E' opportuno fare chiarezza in questo campo, vi voglio citare però alcuni recenti casi emblematici, ricorderete certamente quella che io potrei definire la mattanza dei fidanzati di Lecce, l'arbitro Daniele De Santis con la fidanzata barbaramente uccisi, ma molto barbaramente trucidati da Antonio De Marco, questo giovane che praticamente penetrò in casa, come ricorderete, di soppiatto e fece questa strage. Come pure il caso di Benno, Benno Neymar che ha confessato l'omicidio dei genitori, sebbene quasi inspiegabilmente il cadavere del padre non sia stato più ritrovato. Poi ci sono tanti altri casi, come il caso anche di Lenia Fabri, dove c'è un killer, il Reo Confesso, il Barbieri e un mandante, il Claudio Nanni. Ora, ogni caso ovviamente è un caso a sé, quindi la nostra normativa prevede una sorta di non punibilità detentiva per coloro a cui è riconosciuta la totale infermità mentale. Però, attenzione, non è che bisogna confondere che un omicida a cui è riconosciuta la infermità mentale venga assolto e se ne sia libero di circolare per il paese o a casa sua. No, significa una detenzione, chiamiamola così alternativa, ovvero un ricovero e cura per quanto è possibile in appositi istituti di degenza. Poi è vero che magari dopo un certo numero di anni possono anche uscire se la cura ha degli effetti, anche se io sostengo che nelle malattie mentali c'è solo la possibilità che questa possa peggiorare e non migliorare. Però poi ci sono tante altre sfaccettature, come ad esempio la semi-infermità mentale, che è una condizione per la quale il soggetto normalmente non è o non sembra infermo mentalmente ma lo è o lo diventa in alcune circostanze. Quindi un po' bipolare o tripolare, per meglio dire, in modo che sono i soggetti su cui è più difficile fare una diagnosi. Là, come potrebbe essere sempre il benno, il benno nemmas. Quindi l'accertamento di questi specialisti, che è l'accertamento perlomeno che interessa alla costa, è quello di stabilire se al momento in cui una persona ha ucciso o ha fatto una strage stava, come dire, nelle condizioni di poter comprendere quello che stava facendo, nelle condizioni mentali lucide o meno. Quindi questo è molto difficile da stabilire, molto difficile, perché, vedete, prendiamo un soggetto come ben non è rimasto. Egli aveva una vita sociale, anche di insegnamento scolastico, di palestra, benché facesse uso di anabolizzanti che in dosi spropositate possono alterare anche la coscienza o forse anche di altre sostanze. Però, vedete, quando l'uso momentaneo di sostanze porta all'alterazione cognitiva, questa non è bastevole a definire una semi-infermità mentale. È, diciamo, un'alterazione provocata dallo stesso soggetto proprio al fine, come dire, di superare degli ostacoli, delle paure, di andare incontro a degli avvenimenti emotivi molto coinvolgenti. Quindi, certamente, non sono, non bastano ad avere un attenuante. Mi riferisco in particolar modo, ad esempio, al killer Barbieri. Il Barbieri, ad esempio, è un killer, anche un killer di secondo piano, che ha confessato che prima di uccidere in malo modo, anche in una maniera squallida, la povera Ilenia, ha assunto cocaina. Assunto cocaina che sappiamo che è una droga che altera le funzioni mentali, quindi dà una sensazione, diciamo, per quel periodo di forza, di onnipotenza, eccetera. E allora non si può dire che con l'assunzione di cocaina in quel momento io sia stato non in grado di intendere di volere, perché tu l'hai assunta proprio perché, diciamo, la tua coscienza venisse alterata e tu potresti fare quello che hai fatto. In questo caso, quindi, non viene riconosciuta alcuna attenuante, anzi, poi, le aggravanti superano le attenuanti perché ci sono gli abietti emotivi, gli abietti emotivi, c'è la minorata difesa, cioè gli abietti emotivi sono quando si fa qualcosa senza avere, come dire, un coinvolgimento emotivo, un interesse, fra virgolette, emotivo particolare, come questo barbiere che soltanto per committenza va ad assassinare una persona che nemmeno conosce. È un motivo abietto, come pure la minorata difesa, cioè quando tu vai ad uccidere una persona che fisicamente, per età, per condizione, è una persona che non può nemmeno reggere un confronto fisico con te, c'è una minorata difesa. Quindi le aggravanti, in questo caso, superano tutti e qualsiasi tipo di obiezione o di attenuanti in proposito. Certamente, se venisse dimostrata, nel caso del barbiere, se venisse dimostrata la verità che gli dice, soprattutto il piano rocambolesco di uccisione con la fossa scavata, eccetera, eccetera, allora certamente il Claudio Nanni, il mandante, dovrebbe avere, come dire, la stessa pena che vede in fritta al barbiere, cioè la massima pena, perché in effetti è scogitare un piano così crudele e mandando una persona ad effettuarlo, certamente non è che gli limita in qualche modo la responsabilità. Quindi, diciamo che il fatto di parlare di infermità mentale, quindi, o di semi-infermità mentale, è un qualcosa che oggi, grazie a Dio, i tribunali difficilmente, difficilmente riconoscono, perché, vedete, una condizione di infermità mentale è uno stato, come dire, congenito, una condizione che deve essere provata a esistere prima, esistere durante ed esistere dopo, cioè una condizione costante. Una persona che chiamiamo folle deve avere, come dire, un comportamento da folle notoriamente e costantemente, perché altrimenti sarebbe troppo facile dire in quel momento non capiva niente, è stato un folle. La follia non è che scatta a comando, è un qualcosa che si impossesse della mente di alcune persone in maniera costante, perché, ovviamente, chiunque commette dei delitti che non sia un professionista, diciamo, agisce, chiunque agisce, voglio dire, in un momento di alterazione, in qualunque cosa, anche una semplice assabbiatura che a volte può succedere a ognuno di noi, avviene in uno stato di alterazione. Quindi, figuriamoci, degli episodi così gravi certamente compostano un'alterazione mentale. Però, se questa qui è limitata nel tempo e non è preceduta e non è seguita da una costante, allora certamente non può assolutamente essere un attenuante. Anzi, ripeto, spesso sono le aggravanti che prevalgono e che fanno in modo che scatti un ergastolo perché spesso sono proprio le versioni più fragili le vittime di questi uomini in prevalenza che, profittando della loro forza, della loro asoganza, mettono fine a delle vite anche per motivi veramente subdoli, motivi condannabili e deprecabili. Quindi, io sono sicuro che in questi queste cause, in questi procedimenti che adesso si sono avviati a carico di Antonio De Marco, Benno Neumann, ci sia una una valutazione. Per il primo Antonio De Marco c'è, io ho dei dubbi effettivamente effettivamente qui per tutto quello che è stato trovato per i diari e per tutto quello che è emerso. Io credo che per Antonio De Marco possa essere conosciuto almeno una semi-infermità mentale che, ripeto, non è che si traduce in liberi in liberi a casa. Una semi-infermità può essere una parte della pena espiata in un istituto di recupero mentale. Questo è tutto, non è che va libero per la strada. Nel caso di Benno Neumann io non credo più di tanto. È una personalità è una personalità difficile però non non credo che si possa arrivare in questo caso alla semi-infermità mentale. Come pure per i barbieri assolutamente è soltanto un killer di 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 infimo livello a cui non c'è nessuna scusante né per lui né né tanto meno per il suo compare Claudio Nanni. Questa è la mia riflessione di oggi forse mi sono un pochino dilungato vi ringrazio sempre che mi seguite vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti 31 Iscriviti